Amici e tutti voi presenti, state iniziare il nostro piccolo spettacolo, ci siamo impegnati molto per fare bello, speriamo di riuscirci e vi vogliamo, grazie per essere qui con noi, e vi vogliamo, un mondo libero, e vi ringraziamo per tutto quello che basta per noi bambini, un bacio da tutti noi. Sono molto preoccupato, avete ascoltato la stigia da di Puglie? No, di cosa fai? Sette le solite cose noi note. Ancora, gli sbagli, a quattro patti da noi, in l'area di quelli, la guerra fa paura. Sì, è vero, tutti in Nord Africa e il Medio Oriente sono in agitazione. Infatti, gli stadi dell'Unione Europea sono molto preoccupati e pronti a intervenire per ricordare la pace. dell'Unione Europea è molto preoccupata, che sia in dame. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti